Andrea Raffa Revisore Bello che è partito. Prima l'applauso, prima che io entrassi. E adesso, quando entri, hai la sede di me. Ecco, adesso non vedo nessuno. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buonasera. Allora, prima di iniziare, devo dire due cose. La prima è che, come avete visto anche da Aminatà, Gabriella, Fall, l'ho detto bene? Ok. Lei ha usato delle slide. Chi parlerà dopo di me utilizzerà delle slide meravigliose. Io di solito sto alle slide, cioè ne capisco più di pettini che di slide. Però ho dovuto farle. Mi perdonerete per la qualità delle slide, ma tanto è la prospettiva quella che conta. E siamo qua a questa. E questa è la prima cosa che vi chiedo. La seconda, ho visto il pubblico in sala, e si parla di gioventù. Vedo un sacco di giovani. Ecco, il mio intervento si riferisce ai giovani, soprattutto ai giovani che hanno una ventina d'anni di esperienza oltre i 30. e capirete tra poco perché. Elisa ha parlato del titolo di questo mio intervento, che si chiama Prima il piacere, poi il dovere. E dire in Veneto, Prima il piacere, poi il dovere, devi considerare proprio una prospettiva molto ampia. E io nasco naturalmente con il proverbio con cui tutti quanti siamo nati, Prima il dovere, poi il piacere. mia madre mi ha cresciuto con Prima il dovere, poi il piacere, fin da quando allattava. Prima finisci, poi eventualmente giochi. Vai all'elementare, prima finisci i compiti, prima fai il tuo dovere, e poi eventualmente vai a giocare o vai con gli amici. E poi così, alle medie, nei miei otto anni di liceo, capite bene che c'è speranza per tutti, eh? E quindi questo messaggio del Prima il dovere, poi il piacere, tu da quando sei bambino lo senti e non lo metti mai in discussione. Perché funziona così, tutto il mondo funziona così, da sempre. Vorrei iniziare parlando di una... Io faccio questo lavoro da... avevo 23 anni quando ho iniziato. Quindi sono 27 anni che faccio il coach. E mi è capitato di lavorare con diverse persone. Prima vi dicevo, mi riferisco alle persone che sono dei giovani trentenni con vent'anni di esperienza, perché bene o male il cliente tipo che si rivolge a me per il tipo di coaching che io faccio, ha dai 40 anni in su. E magari hai iniziato a lavorare a vent'anni, a venticinque anni. A venticinque anni hai la fame, vuoi ottenere risultati. Per te non esiste altro. Se poi hai la smagna di diventare qualcuno, di avere successo, di ottenere risultati, di costruirti un futuro, tu vivi, non dico 24 ore su 24, ma tre quarti della tua giornata con questa ossessione positiva in testa. E non è un problema, ti piace il tuo lavoro e soprattutto hai radicato questa convinzione che diventa un'identità. Prima il dovere, poi il piacere. Prima il dovere, poi il piacere. E un giorno mi si presenta a casa, mi ha richiesto consulenza, Diego. E vorrei che immaginaste Diego, più che parlo di Diego ma potrei parlarvi di Stefano, di Marzia, di Lucia, di Paolo, di diverse persone che vivono esattamente come Diego. Mi si presenta a casa con tre telefoni, me li lancia sul tavolo e mi dice io ho 57 anni, da quando ho 25 anni, esco il lunedì mattina alle 7 da casa, rientro alla sera alle 7 e mezza. Per anni è andata bene così fin quando ero da solo. E per me non è mai stato un problema. Io ho uno spirito di sacrificio molto forte. All'inizio andava tutto bene, mi prendevo i miei spazi, mi prendevo i miei tempi. Diego è un appassionato di arti marziali, un appassionato di sport, e quindi nella pausa pranzo, o alla sera quando tornava dal lavoro, riusciva a dedicarsi al suo piacere. Ad un certo punto, necessariamente, giustamente, Diego decide di mettere su famiglia. E quindi ha una moglie, ha dei figli, e continua a fare la stessa vita nello stesso modo. Perché non sa fare altro, non sa fare altro in nessun altro modo. è solo che non hai più il livello di energia che avevi quando avevi 25 anni. Le priorità sono cambiate. Ma non ti sei accorto di una cosa. Che quello che prima era un momento di vanto, una forma di vanto, no? Io sono un gran lavoratore, uno dei complimenti più belli, più forti, più sentiti per un italiano. Ad un certo punto ti si ritorce contro. Arrivi al punto in cui ti rivolgi a un coach per dire il mio problema non sono ottenere risultati. Io questi li ottengo da sempre. Il mio problema è che i miei figli stanno crescendo da soli. E che mia moglie mi ha dato l'out-out. E che io non so fare altro in nessun altro modo. Lì diventa importante capire, cominciare a mettere in discussione delle proprie convinzioni. Soprattutto se non sono più funzionali per noi. Allora, prima il dovere e poi il piacere. Se ci pensate, io me lo sono raffigurato, e notate anche la qualità delle slide, me lo sono raffigurato in questo modo. Ci hanno sempre insegnato che se tu fai il tuo dovere, prima o poi, il piacere ce l'avrai. Se tu fai il tuo dovere, prima o poi, il premio finale, tu ce l'avrai. Allora, se penso a un'immagine, penso al cavallo che corre facendo la cosa che gli riesce meglio, facendo la cosa per la quale è nato, e si impegna e corre sempre più forte per arrivare a raggiungere quel piacere, il premio finale, la carota. Perché non si accorge che quella carota è semplicemente un bastone collegato a una... La carota è collegata a un bastone, attaccata alla schiena. E lui non sa che sì, ce l'ha lì davanti, ma difficilmente la raggiungerà. E sapete perché? Perché quando tu fai un comportamento per un sufficiente lasso di tempo, questo comportamento diventa un'abitudine. E un'abitudine non è altro che un comportamento talmente ripetuto da diventare automatico. Arriva un momento in cui tu corri convinto che ci sarà il premio finale, ma sei talmente abituato a correre che il premio finale, cioè il piacere, diventa un e poi. E nella tua testa c'è prima il dovere. C'è solamente prima il dovere, esattamente come per Diego. Razionalmente lui sa che dovrebbe fermarsi, è solo che non riesce a farlo. Sapete perché? Perché si è abituato per vent'anni, per venticinque anni a fare il suo dovere. Che sembra una cosa assurda, sembra un paradosso. Allora l'ho sfidato, esattamente come chiedo a voi una sfida. Perché è facile venire qui, no? Ha detto bene Lisa all'inizio. Il tema di questo TEDx si chiama prospettive. E le prospettive che cos'è? Cambiare prospettiva. Accettare il cambiamento significa mettere in discussione qualche cosa con cui magari hai convissuto per anni. Ed è facile quando metti in discussione qualche cosa che non dai per scontato. Ma avere coraggio significa tante volte andare a guardare, avere il coraggio di mettere dubbio a qualche cosa con il quale magari siamo cresciuti. È un po' più difficile così. E io mi ricordo che a Diego dissi questa frase. Facciamo una cosa. Ribaltiamo il proverbio. Cosa succederebbe se partissimo dal piacere? Cosa succederebbe se il piacere, se tu cominciassi a dedicarti al piacere e poi al tuo dovere? Mi ha guardato come vedo la maggior parte di voi mi sta guardando in questo momento. E non capiva. E io faccio, attenzione, ti do un dettaglio in più. Tu hai sempre considerato il piacere come il premio finale dopo che hai compiuto il tuo dovere. però tu sei tra quelle persone, e probabilmente qui ce ne sono diverse, che in realtà amano tantissimo quello che fanno. Per Diego, iniziare alle sette del mattino a lavorare, finire alle sette e mezza di sera non era un dovere, non era uno sforzo. Si stava dedicando a qualcosa che aveva creato con le sue mani. Diventava un dovere che cosa? La frustrazione del fatto che, a causa delle abitudini che aveva creato, non riusciva a dedicarsi a qualcosa che gli dava benzina, che gli dava carburante. Non aveva più tempo per lui. Non aveva più tempo per la sua attività fisica. Non aveva più tempo per i figli. Tant'è vero che la sua lamentera era «Crescono senza di me». Arrivava a casa la sera e durante il giorno aveva degli ottimi propositi. Questa sera gioco con i miei bambini. Questa sera porto mia moglie fuori. Questo weekend andiamo al mare, andiamo in montagna. Arrivava il weekend, il sabato mattina però aveva questo impegno urgente al lavoro. Il sabato pomeriggio staccava un attimo e poi si addormentava sul divano. E la volontà gli diceva non farlo, però un po' ha resistito. E poi l'abitudine, ovviamente, devi recuperare. Il tuo corpo ti porta a dover recuperare. Io vi ricordo che gli disse da una cosa, è l'invito che faccio a voi. Se considerassimo il piacere non come il premio finale, ma come il carburante. Partire dal piacere non significa partire dal premio finale. Non ci sono premi da vincere. C'è un carburante. C'è l'energia. C'è il carburante che ti permette di nutrire le tue emozioni. C'è il carburante che ti permette di nutrire la tua pancia. C'è il carburante che ti permette di dedicarti a quei piccoli rituali che ti consentono di dedicarti meglio al tuo dovere. E il lavoro che ho fatto con lui è stato questo. Creare dei rituali. Rituali sono comportamenti. Rituali sono abitudini. Ma c'è una piccola differenza. La domanda che gli feci era questa. Cosa accadrebbe se partissimo da ciò che è più in linea con noi invece di partire da ciò che qualcuno ha detto che dovremmo fare? Beh, è un bel cambio di prospettiva se ci pensate. E il coraggio di farsi delle domande diverse porta pensieri diversi. E quando tu hai pensieri diversi hai naturalmente stati d'animo diversi. E questo ti consente di fare azioni diverse. Da lì abbiamo creato, come vi dicevo, dei rituali. Prima abbiamo parlato di abitudini. Adesso vi sto parlando di rituali. Rituali non significa secondi lavori. No, no, i rituali sono quelle piccole cose, piccole abitudini, piccoli comportamenti che ti nutrono, che ti permettono di non andare mai in riserva. E quando non vai mai in riserva hai l'energia, il focus, per dedicarti al tuo dovere senza sentirti in colpa. In pratica i rituali sono abitudini con dentro un'anima. E vi lascio con una domanda, visto che sono le domande che creano nuove prospettive. Se il risultato finale è così importante, perché è finale? Grazie. 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 Grazie.